Con i giapponesi non si scherza, lo sa bene la Grecia che a fronte di un arretrato con il fondo monetario salito a 2 miliardi di euro, ha invece ripagato per intero i cosiddetti samurai bond, ovvero titoli di debito in yen emessi vent'anni fa per un valore di circa 148 milioni di euro, una cifra trascurabile rispetto all'enorme ammontare del debito di Atene, ma il diavolo si nasconde nei dettagli, al contrario di quanto accade con l'FMI dove è prevista una semplice messa in mora, non ripagare investitori privati significerebbe essere tecnicamente in bancarotta, un'eventualità che scatenerebbe default a catena.